Nonostante un consiglio comunale costretto allo smart working dalla pandevia, l'attività dell'assise pesarese del 2020 non si è mai fermata. 21 consigli comunali come nel 2019, 94% di presenza di consiglieri, 140 proposte di delibera votate, 55 emozioni e ordini del giorno con 40 atti approvati a riprova di un confronto fra maggioranza e minoranza. 125 commissioni consigliari di cui 57 online. Questi i numeri di un consiglio comunale che manda in archivio il suo 2020. È stato un anno particolarissimo anche per il consiglio comunale che ha fatto grandissime difficoltà nel portare avanti le attività istituzionali ma ci siamo riusciti. Abbiamo organizzato 21 consigli comunali confermando l'attività del 2019, oltre 100 commissioni consigliari e non ci siamo fermati, ci siamo innovati, abbiamo acquistato dei software per poter permettere ai consiglieri di fare attività da remoto e non fermare mai la macchina istituzionale democratica. Quello che è uno dei prossimi obiettivi è quello di poter ritornare a esercitare il nostro ruolo di consiglieri comunali e dal vivo di poter esercitare in questa aula che devo dire è bello rivedere dopo qualche mese che purtroppo non abbiamo potuto frequentare perché la democrazia ha bisogno anche di un confronto diretto. Questo sicuramente è uno dei prossimi obiettivi. Il secondo penso che debba essere anche quello di una revisione dei regolamenti con cui si articola il consiglio comunale prevedendo queste nuove modalità come strumento ma anche prevedendo quelle che sono le nuove sfide per poter garantire due di quelli che sono i nostri grandi obiettivi, la trasparenza e la partecipazione. Io credo che nel nuovo anno questa sarà una grande sfida e speriamo di poter ritornare presto a esercitare il nostro ruolo di consiglieri comunali facendolo di persona e non solo attraverso un microfono e attraverso uno schermo.